Mi piacerebbe molto riuscire a farle, comunque mi piace l'Italia. Io di solito vado all'estero, di solito vado in Germania, vado a Berlino. Mi piacerebbe molto andare all'estero perché non ci sono mai stata. Il mio desiderio più grande è andare al Maldive. In vacanza sempre Italia, bellissima. All'estero. Grecia. Possibilmente all'estero, però se non si può si rimane in Italia. In Italia. Abbiamo l'Italia che è spettacolare e non la conosciamo ancora. La Sardegna che è splendida. Get ready for a lot of fun and excitement.